amici del leone buonasera allora anche per voi così come sto facendo per tutti quanti abbiamo l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 ottobre 2021 ok sarà molto breve ma ho notato che è molto concentrato pochissime cose da dire ma significative parto subito col dire che voi del leone state vivendo in una situazione ferma bloccatissima problemi di gelosia problemi anche transitori magari una situazione di contrasti litigi pesanti state vivendo o inizierete a vivere no ma state vivendo e ve la state portando comunque avanti ci possono essere io metto sempre il ci possono essere potreste forse fareste perché dipende poi sempre da voi come vi comportate durante la settimana quindi ci possono essere degli imprevisti nel campo sentimentale anche se i sentimenti sono chiari e positivi avete nella settimana nell'inizio settimana quindi prossima settimana ci sarà tanta confusione e come se fosse che voi siete convinti che il vostro partner vi tradisce o il vostro collega vi tradisce io parlo di relazione ma potete metterla tranquillamente comunque anche in una situazione lavorativa è come se fosse che il vostro partner vi tradisce ma in realtà conduce sinceramente un rapporto sincero perché comunque sincero nei vostri confronti ma è come se fosse che voi siete entrati in un pensiero ok di che non vi fidate più della persona che avete accanto e quindi la vedete come dannosa per voi non siete chiari ok e quindi portate la situazione all'esasperazione perché poi questi questi colpi che voi fate questi tiri che voi fate ma neanche voi riuscite a capire non so sono dei vostri pensieri che esternate in questo modo senza una causa senza un motivo non c'è motivo avete deciso di comportarvi in questo modo è come nella vostra testa è scattato qualcosa e quindi non vi fidate più del partner o del collega con cui lavorate insieme ma portando la situazione all'esasperazione giustamente io vi chiedo non è che siete voi che invece vi siete stancati il vostro sentimento è cambiato e state portando all'esasperazione l'altra persona perché magari si allontana da voi perché infatti è come se fosse che date la colpa al partner la colpa al vostro collega che ci lavorate perché vi siete stancati o di averlo accanto o di starci insieme e quindi volete far ricadere tutte le colpe addosso a questa persona e questa settimana potreste anche avere a che fare con dei documenti o dei contratti quindi occhio a che cosa insomma si tratta e come consiglio delle carte questa settimana voi vi state sentendo deboli vulnerabili potreste trovarvi a non fare delle scelte giuste non sapete ancora che cosa vi può accadere e quindi e se io faccio questo dove mi porta e se io faccio quest'altro invece dove mi porta e quindi non sapete che pesci prendere ma dovete ficcarvi in testa che dovete fare un cambio radicale di vita se siete pronti a questo allora potete puntare in alto potete cercare di comunque vedere le cose sotto altri punti di vista e vederle magari positivi però per arrivare a fare la scelta giusta e a ponderare tutta la vostra situazione per arrivare magari a degli obiettivi che vi siete prefissati avete bisogno di tranquillità di tanta tranquillità e di tanta riflessione magari prendetevi un periodo di pausa anziché svangare la puntini puntini a chi vi è accanto o a chi magari lavora con voi che non vi sopporta più cioè vi dico piuttosto prendetevi un periodo di pausa dove riflettete abbastanza ma state in un momento insomma in un periodo di tranquillità dove avete tutto il tempo per poter riflettere questo è quello che fa parte della vostra settimana vi state facendo venire dei capricci i picchi noi li chiamiamo i picchi avete i picchi i colpi di testa che non mi portano ripeto da nessuna parte perché probabilmente guardatevi dentro forse siete voi che veramente non provate più lo stesso sentimento o magari vi siete rotti le palle di stare a fare quella determinata mansione perché il vostro collega ormai vi ha fastidiato quindi di conseguenza insomma non rompete agli altri cioè piuttosto comunicatelo o cercate se volete cercare di capire perché voi avete iniziate a puntare così il dito senza un senso senza niente allora fermatevi un attimo ripeto ritornate in un momento di tranquillità perché forse non siete tranquilli riflettete giustamente un po' e di conseguenza insomma poi capirete che cosa succede però ripeto avete bisogno di fare un cambiamento radicale della vostra vita ora a parte gli scherzi a parte le battute è una cosa per voi molto molto importante io vi mando un bacio vi auguro una buona serata e ci aggiorneremo presto ok buona serata un bacio